Ogni uomo, ci insegna Sampio, che si impegna in un servizio per gli altri, per chiunque ha bisogno, diventa degna dimora della Trinità. Chiunque va incontro alle necessità del proprio fratello diventa come Gesù, non solo un annunciatore della pace, ma un realizzatore, un portatore di pace. Carissimi fratelli e sorelle, da questa Eucarestia, che è immersione nella Santissima Trinità, vogliamo partire incoraggiati, ripieni della pace di Dio, della Sua presenza, per essere noi stessi strumenti di pace. possa, Sampio, pregare per tutti noi, possa intercedere soprattutto per tutti gli operatori della protezione civile, perché sul suo esempio sappiamo tutti quanti noi portare ai nostri fratelli la consolazione, il conforto, l'aiuto frutto di un amore vero e sincero. Amen.